Buongiorno a tutti! Buongiorno a tutti! Allora da oggi diamo il via a una nuova edizione di Almagitana, ovvero un'edizione molto più easy, molto più light. Mamma mia se sono ancora bianca con questo calottiero! Comunque abbiamo deciso, è stata un'idea sua anche se ve la sto elencando io, però è merito suo, di riprendere dei piccoli frammenti della nostra vita e creare ed editare dei video molto molto più semplici rispetto a quelli che avete sempre visto dove c'è più un racconto di giorni. Così possiamo pubblicare di più stare di più insieme e niente siete più aggiornati su quello che ci accade. Sarà un po' traballino perché ancora devo imparare ad utilizzare il selfie stick con il cellulare. Useremo al posto della telecamera il cellulare e quello che sempre portate in mano. Faremo i video con il cellulare quindi la qualità magari non sarà eccelsa come quella di prima, però per la così riusciamo a fare video da postare nei giorni a venire. Non lasceremo più trascorrere così tanti giorni. Sono video più semplici. Avranno degli arrangiamenti un pochino più basilari, un po' diversi dai video veri e propri di quando saremo in movimento, di quando ci sposteremo da un luogo all'altro insomma. Anche perché non avendo sempre la disponibilità della corrente elettrica non riusciamo ad evitare come siamo abituati a fare. Quindi via così, veloci. Sì, adesso lui si mette a posto degli occhiali che ce li hai stortissimi. Sono bellissimi gli occhiali stortissimi. E poi partiamo. Oh, real life da qua in poi, perché qua non abbiamo mica possibilità di far tagli, arrangiamenti, adattamenti delle immagini. No, no. Quello che vedrete è proprio tutto. Real life. Stiamo andando in spiaggia. Noi oggi stiamo andando in spiaggia. È il mio compleanno, quindi come nostra consuetudine, tradizione familiare, per il mio compleanno si va sempre nei posti dove c'è dell'acqua. Quindi stiamo andando in spiaggia. Siamo a Pinarella di Cervia e prima della spiaggia, di raggiungere la spiaggia, c'è una cosa finissima. Questa bellissima finetta. Ma in questa bellissima finetta ci sono delle cose interessanti. Che ci fanno magri. Sì, sono riuscita a vedermi magra. Quindi ora ve le mostreremo come saremo se fossimo magri. Poi ci sono anche le altre. Comunque adesso vi mostriamo. le altre però partiamo dal magro magro magro. Sì, è la più bella. Sì, è la più bella. Allora hanno posizionato questi specchi. Non so cosa si veda. Sì, si vede. E siamo magrissimi. Mamma che sfilatini. Ci possiamo anche avvicinare di più che si vede meglio. Siamo magrissimi. che sfilatini. Hai visto che sfilatini. Wow, guarda che silhouette. Guarda la mia gamba. Io non ho mai avuto delle gambe. Guarda che silhouette. Wow. Io non ho mai avuto delle gambe così magre. Hai visto come sono sessi? Sì. Molto magri. Sì, qui siamo magri. Poi ce ne sono altri. Andiamo in quell'altro là. Poi c'è quest'altro specchio che invece in questo specchio parte deve essere al contrario. No, aspetta. C'è il momento in cui... Ah sì, qui siamo lunghi, bislunghi. Abbiamo cose delle foreste. Sì, abbiamo i piedoni e poi siamo bislunghi. Sì, sì, sì. Però non ci piace tanto questo. No, no. Vero? No. Anche perché non si vede granché, non si capisce. No, non lo tagliamo. No, non lo tagliamo però non è quello che ci piace. Non mi piace. Ecco. Vediamo questo. Questo. Allora in questo. Questo è normale. Questo è normale nel senso che una persona si posiziona di qua e l'altra di là e l'effetto viene così. Cioè praticamente Fabrizio è sul mio corpo e io dall'altra parte sono sul suo corpo. Sì. Quindi dai, questa è una cosa... Normale. Normale. quello che a noi ci fa ridere di più è quello che ti fa diventare un hobbit, un nanetto, un gnomo. Ah, è solo che siamo un po' contro luce. Andiamo di là che si vede uguale. Si vede uguale? Sì. Andiamo a vedere. Siamo due nani. Due nanetti. Guardandomi qua, guardandomi qua sono più magro nella realtà. Eh, questo è utile. Uno si specchia qua e dice mamma mia. E' bellissimo. Questo è il mio preferito. Sì, sembriamo due nanetti. Questo è il mio preferito. Che stronzate questo specchio. Guarda qua. Oh che miseria. Che carino che sei. Sono carino eh. Molto. Andiamo. Sono una figata questi specchi. Adesso per andare in spiaggia ci facciamo una passeggiata nella Pineta Questa sono more. Di gelso. Ci sono more di gelso. Sì. Sono tutte more di gelso. Quindi se qui ci sono le more di gelso ci sarà il gelso. Però... Cosa ho pestato? Ti schifo? Mi è solita una more di gelso nella ciotola. Vi volevamo mostrare la bellezza di questo bosco e anche gli inconvenienti dei boschi che puoi pestare di tutto. In questo caso ho pestato una more di gelso e va già bene. C'ho la ciabattapina sotto. E va già bene perché... Viene. Va già bene perché potrebbe pestare qualcos'altro. No, però adesso ragazzista è bellissimo andare verso il mare o a dire... E farsi questa passeggiata in mezzo a una Pineta. Sì, no. Bello. Si respira l'aria buona. Bello, bello. Piena di profumi. Guarda che adesso dire la verità c'è quel profumo da pranzo. Pranzo. Non sento il profumo di salsiccia. Stai mettendo su della roba da mangiare, sicuro, sicuro. Stiamo andando in spiaggia un po' tardino stamattina. Sì, perché ieri sera abbiamo lavorato, abbiamo fatto tardi e stamattina non siamo riusciti ad alzarci presto. Poi ci siamo stati e abbiamo avuto tutta la nostra routine ovviamente. Attila è due giorni che non lo vediamo. E quindi stiamo andando in spiaggia tardi. Sì, sì. Però tanto noi tempo di fare un bagno, asciugarci e torniamo subito a casa. Assolutamente. Quindi andiamo subito qua allora? Sì, andiamo nell'ultima parte della Pineta. Nell'ultima, ok. Sì, sì. Perfetto. Come dicevo prima Attila un paio di giorni che non torna a casa, avrà trovato Patonza. Noi fino ai cinque giorni siamo tranquilli perché ci ha abituato ai cinque giorni. Quindi noi saremo qui, non andremo via, non c'è nessun problema. Calma sarà al suo posto. Quindi problemi in tal senso non ce ne sono. E' così insomma. Adesso raggiungiamo il mare, la spiaggia. Io devo riacquistare un po' di colorito da persona viva. Fabrizio, vabbè, è già perso nel marocco. Io sono un marocchino di mio ragazzi. Non ci vede a fare. Quindi adesso andiamo a vedere il mare. Ok. Eccoci al mare, la passerella. Puoi sfilare se vuoi, puoi fare la sfilata. Posso sfilare? Ma è meglio di nuovo là. Non sono esattamente uno sfilatino da poter sfilare. Sfilare. Eh, assolutamente no. Comunque oggi non è una gran giornata. C'è questo sole un po' velato però, insomma, tanto siamo al mare. Va bene così. E' tardi, quindi se anche c'è... Adesso ci faremo un bel bagnetto, una bella tiratina di frisbee. Ci asciughiamo il costume e poi andiamo a comprare una bicicletta. Davvero eh. Andiamo a comprare una bicicletta perché è a piedi. Con il fatto che lasciamo Karma ad Attila, vi devo macinare dei tre chilometri ogni volta. Perché gli eventi ovviamente non sono di fianco ai parcheggi. Quindi necessita decisamente una bicicletta. ecco il mare. Eccoci adesso. Sistemiamo. Asciugamano. Altro asciugamano. Puoi buttarlo anche così. Perché se ti compriano te lo stendo bene 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 bene. Grazie. Stendiamo tutto e poi... Acqua. Immediatamente. Perché c'è un gran caldo. L'aggiornamento. Siamo sempre a fare mercato. Anche stasera. E Fabrizio è andato a prendere la pizza. Abbiamo già montato il banco. Abbiamo anche già iniziato a vendere, a dire la verità. Quindi... Vabbè. Poi non avevamo più ripreso da dopo la pineta il mare. Perché poi quella giornata. Cioè alla fine ieri in teoria. E' stato ieri. E' stato tutta... Vabbè. Un relax alla mattina. In spiaggia. Abbiamo giocato un po' a frisley. Ci siamo... Abbiamo fatto un bagnetto. Ci siamo asciugati. Siamo tornati a casa. E nel pomeriggio. Siamo andati ad allestire il banco per il mercatino del mercoledì. E niente. Era mercoledì ieri. Sì. E niente. Quindi poi siamo rientrati a casa stanchi. Tardi. E' tornato Attila. E' tornato. E' tornato a casa. Che è un po' sfatto. Cioè sembrava quasi che visse la labirintite. Debolissimo. E' andato a gatte. Comunque adesso sta... Ha sempre bevuto. Quindi la stiamo monitorando. Beve... Cioè beveva su acqua. E però inizialmente non mangiava. Invece da oggi pomeriggio ha iniziato anche a mangiare. Sta dormendo. Sapete che i gatti si curano quando dormono. Comunque anche parlando con altre... Altri amici che hanno i gatti maschi non castrati. Ci hanno detto che è normalissimo. Ed nel frattempo è arrivato Fabrizio. Più che altro è arrivata la pizza. Il mercatino sta giungendo al termine. Questo è il viale di tutto il mercato. E tra un pochino smontiamo. Perchè ormai le persone stanno andando a letto. Fabrizio è stanchissimo. Vedete che prendo la musica? Perché sono molto stanco. Sei stanco vero? Ho fatto molti amoretti e non ho più energia. Basta non ne abbiamo più. No. Questo video termina qui. Se vi è piaciuto questo nuovo formato di video. Più veloci, più immediato. Con il cellulare non capisco a me dove sto. Devo guardare. La videocamerina è qua sotto. Tu mi ero al centro? Mi ero al centro. No, vedi che sembra che guardo la Madonna. Vabbè comunque. Se vi è piaciuto questo nuovo formato fatecelo sapere con un like. Se non siete ancora iscritti al canale e volete seguirci nelle nostre peripezie quotidiane iscrivetevi. E cliccate la campanella. Bravo. Che così rimanete sempre aggiornati. Ciao a tutti. Notte. ciao a tutti.